Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. La statale 68 Val di Cecina è provvisoriamente chiusa per un incidente avvenuto al chilometro 12 nel comune di Riparbella sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio e chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. In direzione Bologna fare attenzione per un veicolo in avaria segnalato tra Val di Chiana e Monte San Savino. Sulla FIPILI fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno chiusura della carreggiata all'altezza del chilometro 76 nel ramo di Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Infine ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Buoversi Toscana è un servizio realizzato in con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!